No, questi? Allora, questi sono i gambri di Sanremo, questi sono gambri che sono stati pescati ieri sera, quindi non hanno ancora 24 ore di morte. Questi sono stati scampi, anche questi pescati qua davanti, a largo. Gli scampi vengono pescati a circa 400 metri di profondità, invece per quanto riguarda i gambri arriviamo a 800-1000 metri. Poi c'è una cosa, che Noli ha avuto la bandiera blu, quindi è un gran mare. Sì, assolutamente, ma noi proprio su Noli abbiamo del pescato, non ovviamente i crostacci perché vengono pescati più a largo, ma abbiamo ad esempio le cavalle pescate questa mattina, il fagello, il dentice, la gallinella, sono tutti i pesci pescati questa mattina dalla cooperativa. La lampuga, che è un altro pesce azzurro, molto buono, ha carne molto delicata, ombrina. Con questo cosa prepara? Con questo prepariamo il capomagro, all'interno, all'interno viene fatto il capomagro con questo. Però è un pesce che si può utilizzare anche da crudo, eventualmente. Queste sono le criglie, criglie di scoglio, queste sono già state pulite, quindi si vede che si perdono un po' di lucidità. Le acciughe, che adesso è un momento che in Ligure ne stiamo pescando tantissime. Queste sono le nostre acciughe. E questo è un po' il summit di quello che viene preparato. è preparato.